si parte con una nuova sezione di full timer pesca, esca alternative, a lei piace tanto mi piace la pappa, seduta, seduta e adesso andiamo a vedere se piace anche ai nostri ragazzi e dopo eventualmente la usiamo come esca manzine per cani croccantini e si, fa di brutto andiamo si, si, li piace, li piace ripostazione fatta vedete qui, esca alternativa manzine per cani sempre con la mia micro pen vediamo che cosa combiniamo no, va bene, va bene intanto io pesco più vicino un timer pesca, sempre in pesca stiamo provando con il manzime del cane a vedere i risultati se ce la facciamo si, 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 sto provando col manzime sempre in pesca ci siamo ragazzi l'esca del cane l'esca del cane l'esca del cane esca alternativa esca alternativa esca alternativa esca alternativa dai che sei online se forse ti alzi caro mio vai indietro con quel bel sedere ed ecco mettiamolo sul matarasso pesca alternativa pescettone il gattone bra 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 pesca alternativa ci siamo altra ferrata per un'esca è Mizzidiale vuole preso di fuori è grosso è grosso colta pesca la pesca non delude oh oh vediamo strano non mi sembra niente sai che non lo so ma non lo so è molto argentato potrebbe essere sai che potrebbe essere una mur non lo so perchè mi ha dato una codata argentata pesissima no un gatto un gatto enorme i gatti sono cattivi ti rialzate prendere il codino sai è l'esca che fa la differenza vai 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 guardate voi la presa che agilità pianino mettiamo sul motterasso e siamo troppo professionali e via altra esca miracolosa per il full timer pesca è uno di quelli che ne so la piaggia aprirò 10 volte ma è anche pulita di fazza ma è una c***a oh che pezzo o no vai via da lì vai via da lì io vado via dai tu sì ma io ho canina hai pesato le due ore ma va ahahah 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 ahahahah non so neanche dove è andata, vedo la mia canina piegata ooo full timer pesca mettila sul materasso che bello è un bel pezzo me lo slime è piacere ragazzi eccolo siamo? libera con calma che facciamo vedere al mondo come si libera una carpa pianino pianino adagino siamo presi i nostri pesci da Zaluca Steve full timer pesca mi raccomando segnatevi campanellino un like e al prossimo video esche alternative Cheese Oh James Che 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 che